E' Bernardino Romano, 67 anni dell'Aquila, l'escursionista morto ieri sul Gran Sasso, sul sentiero del Centenario, docente universitario stimatissimo e membro del CAI. Le operazioni di recupero del corpo, trattandosi di una zona molto impervia, sono state portate avanti questa mattina dal soccorso alpino e sono terminate intorno alle 10.30 con l'ausilio dell'elicottero. La Salma è stata portata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. E' stata la moglie ieri, preoccupata nel non vederlo rientrare e a dare l'allarme. La signora ha raccontato che il marito le aveva manifestato l'intenzione di fare un'escursione sul Gran Sasso. I tecnici della stazione aquilana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si sono subito attivati e arretati al campo imperatore e hanno trovato l'auto dell'uomo nei pressi di vado di corno. Le ricerche si sono così subito concentrate sul sentiero del Centenario ed il corpo è stato individuato e raggiunto lungo uno dei valloni che affacciano sul versante Terramano. Romano era un escursionista esperto. Il suo profilo social è pieno di foto e video delle escursioni sul Gran Sasso. E' stato probabilmente durante la camminata potrebbe aver perso l'equilibrio, questa l'ipotesi più accreditata, ma potrebbe pure aver avuto un malore. Di certo la sua morte ha provocato molto dolore e sconforto nella comunità aquilana perché lo conoscevano tutti sia per la professione che per la passione per la montagna. L'Università dell'Aquila si stringe al dolore della famiglia. Il rettore Edoardo Alessi parla di una perdita molto grave di una persona in gamba, amante del territorio. Romano era professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e dell'Architettura Ambientale. Scienziato di elevato profilo, attentissimo alla tutela dell'ambiente, amante della montagna. Il professor Romano è stato maestro e guida per generazioni di colleghi e giovani ricercatori, dice il rettore. Alessi ha espresso a nome di tutto l'Atene Aquilano sentimenti di profondo cordoglio alla moglie Elena De Santis, alla figlia Lucia e a tutti i colleghi del Dipartimento Licea che oggi lo piangono.